Nel mondo del writing sono conosciuto con la tag di Hanks, ho conosciuto questo mondo intorno al 97-98. L'opera che c'è alle mie spalle è stata realizzata circa un mese fa in occasione del mio compleanno, quindi con vari amici di Torino, di diverse crew, abbiamo deciso di realizzare un muro per festeggiare il compleanno. C'è un tema limitato con diversi personaggi che sono animali, quindi abbiamo tutti mantenuto un'idea di fare a ognuno l'animale che ci piaceva o che voleva rappresentare. Chi invece faceva scritte si è adeguato tra di loro a fare tutti con varie colorazioni che erano simili e che non facessero un gran pantano. Non c'è nessun significato simbolico, è solo una pura espressione di quello che magari mi è passato per la mente. Era un muro molto libero, senza nessun tipo di restrizione. Diciamo che la scelta di disegnare un cammello è proprio basirare una scelta un po' visiva, nel senso che comunque vedevo molta gente che disegna cani o qualsiasi cosa, animali molto semplici. Dico, in qualcosa che è rappresentato, in qualcosa di diverso, è comunque già un animale che a me piace particolarmente, mi mette allegria. L'ho realizzato esclusivamente con le bombolette spy e il pond è stato dato invece a vernice e a rullo. È stato concesso grazie al permesso di un nostro amico, che è Vubi, che è il ragazzo che ha fatto la scritta fin là. Gli ho chiesto in occasione ovviamente del mio compleanno se c'era la possibilità di avere un muro più grosso, chiamare più persone e quindi passare una giornata, uno, due, tre giornate, disegnando e stando in allegria tra di noi.